Comiso Forza d'urto, il presidente della regione Raffaele Lombardo non convince i manifestanti e la protesta non si placa. A Cati i carabinieri hanno arrestato un 17enne accusato di aver rapinato un rumeno assieme a un contice. Buonasera, apriamo questa nostra edizione del TG con la questione rifiuti a Comiso. A distanza di qualche giorno di tregua i cumuli per le strade cittadine ritornano con grave danno per i comisani. Intanto si profila il rischio sanitario, ma vediamo il servizio. Comiso come Napoli. La città casmenea è sommersa dai rifiuti accadastati in ogni angolo del territorio, anche nelle zone principali come per esempio in Viale Europa e nella zona 167, che da diversi giorni si presentano in condizioni davvero allarmanti. La situazione è gravissima ed ormai fuori controllo. La Tarsu, la tassa sui rifiuti dal 2008 ad oggi, ha avuto un incremento di circa il 100% e adesso con la dichiarazione del dissesto si preparano tempi ancora più duri. Come denunciato dai cittadini e dalle forze politiche, la raccolta differenziata che doveva essere la soluzione dei problemi ha aggravato le condizioni organizzative ed economiche. Addirittura il Partito Democratico parla di 500.000 euro in più bruciati in tre mesi, stato di cose che ha portato Comisi in una gravissima crisi ambientale e sanitaria. Discariche abusive di ingombranti e di inerti diffusi in tutte le contrade, anche ridosso dell'abitato, mentre l'inettitudine nel seguire con i giusti indirizzi operativi il cantiere della raccolta per il segretario cittadino Bellassai ha mandato in default il sistema, trasformando Comisi in una città sporca, trascurata e sommersa dall'immondizia, fatto mai avvenuto prima nella storia. Ed intanto gli operatori ecologici sono stati di agitazione dal 17 gennaio, senza ormai alcuna certezza né economica né organizzativa, anche se avevano ricevuto rassicurazioni sui pagamenti degli arretrati entro questa settimana. A questo punto l'unica alternativa è quella di chiedere un intervento immediato del Prefetto per sbloccare la situazione che rischia di produrre oltre gravi danni all'ambiente e alla qualità della vita, anche il proliferare di parassiti e concreti rischi per la salute pubblica. E rimaniamo a Comis, dove una settantina di genitori hanno presentato una raccolta di firme all'amministrazione municipale per chiedere il ripristino del servizio del trasporto scolastico che dalla scuola materna San Biagio porta i bambini al primo circolo di Amicis nell'ambito di un progetto di continuità. Altri disagi riguardano pure la sospensione del servizio Mensa, ma vediamo i particolari in questo servizio. Sempre meno servizi per i bambini comisani. È stato sospeso infatti il servizio di trasporto scolastico che nell'ambito di un progetto di continuità porta i bambini dalla scuola materna San Biagio al primo circolo di Amicis con l'obiettivo di far interagire i piccoli con la loro scuola e le maestre del prossimo anno. Altri disagi riguardano la sospensione del servizio Mensa e l'alto costo dei ticket. 70 genitori hanno portato avanti una raccolta di firme e hanno sottoscritto un documento nel quale si denunciano gli enormi disagi che vivono quotidianamente i bambini di queste scuole. Le firme sono state protocollate al comune e poste all'attenzione del sindaco Alfano e dell'assessore a ramo Maria Rita Schembari. La sospensione del servizio sta creando parecchi disagi con i genitori costretti ad accompagnare i propri figli e i figli di quei genitori che sono impediti per problemi di lavoro. Dobbiamo prendere i nostri figli da qua all'asilo, portarli a scuola e poi da scuola riportarli qui all'asilo perché poi dovrebbero avere la mensa, cosa che non c'è più. Siamo in balia di nessuno, siamo arrabbiati perché i nostri figli non hanno più nessun diritto. Stiamo chiedendo il diritto che aspetta i nostri bambini, non solo il diritto al trasporto pubblico, bensì anche alla mensa. Posso capire che al momento c'è il problema del blocco dei tir, però spero tanto che questa situazione si sblocchi, anche perché è un diritto che aspetta i nostri bambini. E se non ci sarà riflessione saremo costretti a ritirare i bambini a mezzogiorno perché non possiamo farli pranzare sempre con un solito panino. Abbiamo paura che ci sospendano il pomeridiano a scuola. Per il consigliere del PD Fabio Fianchino qualcuno dovrebbe spiegare come è possibile che non si trovi qualche centinaia di euro per questi servizi, mentre se ne spendono decine di migliaia per le gite istituzionali del sindaco, per gli staffisti e per le super consulenze e i contributi a pioggia. Avevamo già denunciato come Partito Democratico in tempo non sospetto il disinteresse di questa amministrazione comunale, del sindaco, dell'assessore alla pubblica istruzione Marian Rita Schemmari nei confronti dei problemi dei nostri figli, dei nostri bambini. Ecco, questo è il fallimento, attesta il fallimento politico-amministrativo di questa giunta, di questo sindaco. E' per questo che abbiamo chiesto in più occasioni le dimissioni del sindaco Alfano che risponde alla nostra richiesta che non si dimetterà, che insomma possiamo stare freschi perché lui cercherà di continuare fino alla fine il suo mandato. Torniamo a riparlare del blitz della Polizia di Stato al Comune di Comiso che c'è stato nella giornata di ieri. Gli poliziotti hanno posto sotto sequestro documenti e due computer negli uffici del settore dei servizi sociali. Le indagini riguarderebbero spese per alcune gite per anziani risalinte al 2008 e 2009, quando era assessore Salvo Girlanto. Ma sentiamo questo servizio. Ancora massimo riservo sul blitz della Polizia effettuato ieri al Comune di Comiso. Sono stati sequestrati due computer e documentazione varia negli uffici del settore economato al terzo piano e nell'ufficio dei servizi sociali. Pare, secondo alcune indiscrizioni, che nel mirino delle forze dell'ordine ci fossero una crociera e le gite per anziani organizzati dal Comune negli anni 2008 e 2009, quando era assessore al ramo dei servizi sociali Salvo Girlanto. Ed infatti il Comune ha organizzato due gite per anziani spendendo nel 2008 7.000 euro e l'anno successivo 9.000 euro. Mentre nel 2010 la gita non è stata effettuata per mancanza di fondi. I poliziotti dunque sono arrivati all'improvviso nella sede del Comune, cominciando ad acquisire documenti e a perquisire gli uffici, sequestrando anche i due computer in dotazione agli impiegati comunali e ai dirigenti. Il blizzo della polizia arriva dopo quello dei carabinieri delle scorse settimane. La perquisizione effettuata ieri non riguarda però le vicende riconducibili all'aeroporto Magliocco e il caso delle Ferrari sulla pista dello Scalo. Insomma, non c'è pace per gli amministratori della città casmenea e l'ennesima visita delle forze dell'ordine. Arriva proprio dopo la dichiarazione di dissesto del Comune, che aveva chiesto somme economiche alla Regione al fine di evitarlo. Dopo il vertice di Roma tra Monti e Lombardo, il Movimento Forza Turto e il leader dei Forconi, Mariano Ferro, non si ritengono affatto soddisfatti dell'esito dell'incontro romano, dal quale non è per loro venuto fuori nulla di immediatamente concreto. Anche se il Presidente della Regione siciliana assicura che il Premier è disponibile e che la prossima settimana l'esecutivo aprirà un tavolo tecnico per le accise e il costo della benzina. Nel contempo, Lombardo invita a far cessare in Sicilia le proteste dure. Ma ascoltiamo quali sono le aspettative dei Forconi in questo servizio. Mi sembra che dalla riunione non sia uscito nulla di immediatamente concreto. Sostenerlo è il leader del Movimento dei Forconi, Mariano Ferro, che assieme agli autotrasportatori dell'Aias ha dato vita alla manifestazione di Forza Turto che si è svolta nella giornata di ieri a Palermo. Non soddisfatto dell'esito del vertice di ieri sera a Palazzo Chigi tra il Premier Mario Monti e il Governatore della Sicilia Ferro al momento esclude nuovi blocchi precisando che l'agitazione proseguirà senza danneggiare i cittadini e che si deciderà come proseguire la mobilitazione ma non prima di aver comunque incontrato e parlato con il Presidente Lombardo al quale gli è stato chiesto di essere ricevuti. I manifestanti vogliono insomma sapere cosa ha detto Monti al Presidente della Regione e cosa in effetti è riuscito a ottenere quest'ultimo dal Governo disinteressati dei tavoli tecnici che sappiamo quando cominciano ma non quando finiscono come hanno mostrato disinteresse nell'apprendere che il Governo intende ripristinare un treno a lunga percorrenza dalla Sicilia per Milano e Torino. Intanto il Governatore Lombardo ha riferito nel pomeriggio di oggi all'Assemblea regionale siciliana l'esito della riunione di ieri sera a Palazzo Chigi col Premier Monti sulle iniziative per dare disposta agli autotrasportatori agli agricoltori ai pescatori e ai cittadini che attendono segnali di cambiamento in controntendenza a quanto sta purtroppo avvenendo i danni di siciliani che ogni giorno di più sono messi in ginocchio da una crisi che crea difficoltà economiche ormai insormondabili per molti e per tante aziende che arrancano in attesa di una importante boccata d'ossigeno che serva a risollevare gli animi e le sorti del popolo siciliano. Lo sciopero di Tir ha provocato una sorta di panico d'acquisto delle proviste alimentari che sono spariti dagli scaffali come se non bastasse c'è il rischio di acquistare generi alimentari che potrebbero essere scaduti o addirittura con l'etichetta di scadenza alterata è ciò che è accaduto a Palermo ed è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e il servizio. Il blocco dei trasporti che c'è stato in Sicilia che ha procurato disagio alla popolazione a causa della penuria di prodotti alimentari che per paura di non trovarne più sono andati molto spesso a ruba ha sicuramente creato il cosiddetto panico d'acquisto delle proviste alimentari. Molti prodotti sono quasi spariti del tutto dagli scaffali mentre la speculazione non si è fatta attendere a causa di prezzi sono aumentati perfino del 200% soprattutto per ortaggi, verdure e frutta. Insomma un danno ingente per le famiglie italiane che in pochi giorni avrebbero speso il 15% o il 20% in più. Tale allarme è stato lanciato da alcune associazioni di categoria preoccupate per uno scenario che rischia di avere effetti deleteri per le tasche ma anche per la salute dei cittadini perché nella corsa all'accaparramento c'è stato e potrebbe esserci ancora il rischio che si vadano a comprare perfino generi alimentari in parte scaduti e in parte con l'etichetta di scadenza alterata. E che ciò sia purtroppo già accaduto in Sicilia lo dimostra l'operazione delle fiamme gialle palermitane predisposta allo scopo di prevenire tutte quelle manovre speculative scaturite dalla serrata degli autotrasportatori e degli agricoltori siciliani che la scorsa settimana ha messo in ginocchio la nostra isola. I militari della Guardia di Finanza hanno infatti controllato nella città di Palermo e nel resto della provincia centinaia di generi alimentari della piccola e grande distribuzione. In un supermercato le fiamme gialle palermitane avrebbero rinvenuto circa 500 confezioni in scatola di generi alimentari vari pasta, biscotti, legumi, tonno succhi di frutta bibite in lattina in parte scaduti alcuni dei quali da oltre un anno e in parte con l'etichetta di scadenza a quanto pare alterata. Nello stesso esercizio palermitano controllato dalla Guardia di Finanza sono stati trovati quasi una quarantina di chilogrammi di formaggi e salumi in cattivo stato di conservazione tanto da richiedere l'intervento dell'azienda sanitaria locale. Tutta la merce è stata sequestrata e il titolare dell'esercizio è stato denunciato all'autorità giudiziaria per frode in commercio e vendita di alimenti nocivi. E passiamo alla pagina politica Fulmine 7 stanno illuminando il cielo sopra la giunta provinciale di Ragusa a scatenarli sono l'Associazione Territorio e il PDL sentiamo i motivi in questo servizio. Alla provincia di Ragusa si gioca chi la dice più lunga e a scendere in campo sono il PDL e l'Associazione Territorio accompagnata da Fli. Il trofeo conteso è la composizione politica della giunta provinciale. Come ricorderete il 2 gennaio scorso è entrata in vigore la norma regionale che rende incompatibili con giunti e parenti di primo e secondo grado che ricoprono incarichi pubblici nella politica e nelle amministrazioni locali. A nulla era valso il tentativo del PDL di salvare alcune coppie e di fedeli coinvolti dalla nuova regola attraverso il decreto salvaparenti. Tre dimissioni certe e una ancora in pieno dibattito sono stati risultati della legge regionale sul territorio provinciale. Le vittime politiche si intende sono state lo ricordiamo Salvatore Garofalo allora vice sindaco di Vittoria esponente di Selle e Piero Mandarà e Salvo Mallia assessori alla provincia entrambi uomini del PDL. Spada di Damocle penne invece ancora sulla testa di uno dei due tra Giovanni Caruso sindaco di Acate e la moglie Catena Cantala consigliere comunale entrambi della scuderia Udc ma torniamo alla tempesta che in queste ore sta squarciando il cielo sopra il palazzo di Viale Delfante. Dopo pochi giorni dalle dimissioni di Mallia in Mandarà e dopo le consuete discussioni all'interno del partito di appartenenza dal PDL fanno sapere che i prescelti per occupare i seggi rimasti vacanti sono Giovanni Scucces a cui è andata la delega al territorio ambiente e Salvatore Moltisanti a cui sono stati assegnati invece i servizi sociali e fin qui nulla di strano se non fosse che in queste ore dall'Associazione Culturale Territorio Creatura bisogna ricordarlo del sindaco di Ragusa di Pasquale e da Fli sono arrivati i giudizi negativi circa queste nuove scelte del partito che sempre per avere chiare le idee è lo stesso del primo cittadino ragusano anche se tra i due negli ultimi mesi si è respirata aria di maretta diciamo così ma questa è un'altra storia Territorio e Fli in pratica criticano le scelte politiche fatte perché a loro dire non darebbero alcuna visibilità al capoluogo ebleo all'interno dell'aggiunta a tutto vantaggio per il versante modicano l'aggiunta accusano risulta composta da otto assessori nessuno dei quali originario del capoluogo a fronte di ben quattro del versante di modica insomma sembrano dire nessuna caramella all'uomo ragusano e a questo punto viene da chiedersi chi avrebbero proposto loro non è che dietro queste critiche e ci sia qualche aspettativa rimasta insoddisfatta i dubbi restano ma torniamo alle critiche avanzate ecco che in poco tempo arriva la risposta di Silvio Galizia capogruppo provinciale del PDL che dice nel 2012 fare un comunicato stampa per far emergere un campanilismo stupido e anacronistico è davvero ridicolo e ancora non è la territorialità l'indice della buona politica per cui invitiamo gli uomini di territorio a sforzarsi di occuparsi e di proporre soluzioni reali ai problemi veri che attanagliano quella cosa il cui nome ispira il loro movimento insomma senza pelli sulla lingua il PDL forse stanco dell'ennesima provocazione di territorio ha sentenziato persa occasione per starsene zitti che sia l'ultimo avvertimento alla creatura di chi da delfino sembra assumere sempre più le vesti di uno squalo i sindacati del capoluogo Ibleo hanno avanzato la proposta di una convenzione tra il comune di Ragusa e l'entesfera sul tema della sicurezza nei cantieri a questo proposito abbiamo preparato un servizio adesso vi proponiamo chiesta convenzione tra il comune di Ragusa e l'entesfera ad avanzare la proposta sono stati i segretari provinciali della Fillea CGL della Filca CISL della Feneal Will e il coordinatore della Camera del Lavoro di Ragusa al fine di garantire con l'utilizzo della quota percentuale del ribasso d'asta previsto dalla norma maggiori accorgimenti di prevenzione e sicurezza contro la piaga degli infortuni sul lavoro in edilizia per un ambiente salubre e una sana igiene del cantiere nonché l'utile azione di formazione informazione consulenze e servizi per lavoratori imprese personale tecnico della stazione appaltante la proposta attrae origine dalla legge regionale del 21 agosto del 2007 ma dopo quattro anni l'amministrazione comunale del capoluogo non ha ancora provveduto in materia non predisponendo relativi atti per la sottoscrizione dell'apposita convenzione con la scuola edile CPT di Ragusa adesso ci spostiamo a Vittoria dove l'amio ha ripreso l'attività di bonifica del territorio vediamo il servizio riprende dalle zone periferiche della città in territorio extraurbano l'opera di bonifica e di ripristino dei luoghi operate in queste ore dall'amio dopo i disagi di questi giorni a causa dei blocchi stradali perpetrati dagli scioperanti abbiamo ripreso a lavorare alla cremente dichiarato Giuseppe Spalla presidente dell'azienda municipalizzata il primo intervento è interessato Contrada Fossa di Lupo ai margini con il territorio del comune di Comiso dove si è preveduta rimuovere diverse discariche stesso lavoro sarà fatto nei prossimi giorni in Contrada Serra San Bartolo dove saranno abbonificate alcune discariche già sennalate ed attualmente monitorate successivamente sarà attenzionata la ex SP17 Vittorio Scoglitti dove saranno puliti i cidi stradali Spalla infine invita i cittadini ad avvalersi del numero verde 821 0388 e dei servizi del centro comunale di raccolta per il conferimento dei rifiuti ingombranti il centro comunale di raccolta lo ricordiamo è aperto dalle 8 alle 18 dal lunedì al sabato ed anche la domenica mattina adesso una pausa a dopo grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri